Vai, Kikko! Esatto, Kikko! Vi scelto. Faccio un po' il video, io faccio un po' e basta. Quindi facciamo poco e basta. Sì, esatto, Kikko! Faccio un po' con i beat. Nessuno mi ha visto? Sì, esatto, Kikko! 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 Sì, esatto! E' stato nel posto giusto, amico mio! Lo studio dentistico del dottor Marty è aperto! Prego! Saltare sul tavolo odontoiatrico appositamente studiato, se non ti dispiace. Sì, esatto, Kikko! Sì, esatto! Oh, ola! Ok, ma non parlare con la bocca piena! Brava! Ah! Ecco qua! Ma che ci facciano questa là dentro? Buon comprando! Oh, ehi! Grazie, amico! L'avevi piazzata dietro il dente! Sei forte! Non l'hanno ancora messo in quel dente! Ecco, guarda! Guarda! Dai l'occhiata! Oh, vedi? Guarda! Nevica! Hai dieci anni! Eh? Tondi, tondi! Ma sei scarso! Sei maturo! Non ti piace? No, no, è fantastico! Ti fa schifo! Ah! Dovevo prenderti l'Alex Radio Sveglia! Era meglio! Quella va per la maggiore! No, no, no! Il regalo va bene, davvero! Però sai, un altro anno è passato e io faccio sempre ancora le stesse cose! Tavermo lì! Rotta di là! Mangia un po' d'erba! E dentro torna qua! Capisco il problema! Magari mi scrivo a legge! Ma tu devi spezzare questa noiosa routine! E come? Puta via il copione! Mettiti in gioco! Puoi fare tutto! Puoi inventare man mano! Quindi... In estemporanea! Improvvisa! Bum bum bum! Dici? Sì! Una rinfrescata! Rinfrescata eh! Ok! Rinfrescata sia bello! Funziona! Adesso! deduction!